Tartarughe Ninja della IDW numero 56, bersaglio R, sottotitolo di questo video, sono tornato m***e! Wobalaba dab 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 e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja. Parlo, recensisco il numero 56 con un pochino di ritardo perché come avete visto ci sono stati un sacco di video, c'è stata Luca Comics eccetera, è uscito anche Tartarughe Ninja e Power Ranger di cui voglio parlare al più presto, non sono riuscito a recuperarlo a Luca ma spero di trovarlo nella mia fumetteria di fiducia. Ma intanto continuiamo con la serie regolare e poi continueremo anche con la retrospettiva, mi sono fermato al numero 19, continueremo a parlare dal numero 20 fino al numero 49 e avremo recuperato tutta, tutta la serie della IDW in modo da andare avanti a spada tratta. Questo numero 56 non fa eccezione rispetto agli ultimi numeri, ovvero c'è la storia principale, poi ci sono altre due storie secondarie e l'ultima storia secondaria appunto dà la copertina al numero. Ogni copertina degli ultimi tempi ha mostrato una sola Tartarughe Ninja, in questo caso ci mostrano appunto Raffaello che in una storia prequel di qualche tempo fa è stato appunto il bersaglio R, ma parliamo prima della storia principale. Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano Raffaello e di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo numero e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch dove ogni tanto faccio delle live anche a tema Tartarughe Ninja ovvero gioco a Tartarughe Ninja Shredder's Revenge, questo similcabinato che hanno proposto l'estate scorsa. Tra l'altro credo che dovrò ricominciare da capo perché ho cancellato tutti i salvataggi, quindi yeah! Come sapete se seguite i miei video non è un segreto, non sto apprezzando tanto il fatto che la storia principale ce la stiano davvero centellinando con il contagocce. Non è un problema prettamente della stampa italiana, della Panini Comics perché comunque la Panini Comics fa quello che ha sempre fatto ovvero prende le testate statunitensi e le unisce in un unico numero ha due possibilità per farlo o unisce tutte le tre testate perché negli Stati Uniti escono esattamente così queste tre storie negli Stati Uniti escono in spillati separati e probabilmente hanno lo stesso costo di questo numero e la Panini ha sempre fatto così, le ha unite sotto un unico spillato, cartonato, che dir si voglia in modo che i lettori abbiano una visione totale del mondo delle tartarughe ninja oltreoceano poteva fare altre scelte, poteva scegliere di fare una sola collana con la storia principale e altre due collane con le storie secondarie ma chiaramente capirete anche voi che per ragioni di marketing, per ragioni commerciali le altre due collane non avrebbero venduto allo stesso modo di conseguenza ficcano in un unico numero tutte le tre storie parallele quindi io che amo, voglio sapere da mesi come cacchio si incastrerà gennica nel quartetto che diventerà un quintetto la sto vedendo davvero pochissimo ma parliamo della storia la storia si apre con il padre di Casey Jones, Han che di nuovo si è separato fortunatamente da questo ritrovato amore per il figlio a causa dell'odio che prova per i mutanti quando lui vede che persino gennica che era diventata in un certo senso l'amichetta non ancora la fidanzata ma stava diventando un po' l'interesse amoroso di Casey Jones nel momento in cui la vede trasformata in una mutante la rigetta, la repelle e quando vede che Casey Jones non fa la stessa cosa ma ovviamente non riesce a starci assieme ma le resta accanto le strade di Casey e di suo padre si separano di nuovo quindi si apre la storia sul molo dove c'è Bishop che ingaggia in un certo senso Han e vediamo senza troppi fronzoli che ha clonato Slash e ha creato ben due cloni senza mente di Slash che può comandare con il suo visore e ha bisogno di un'altra persona che comandi il secondo clone questa persona appunto è Han nel frattempo vediamo le tartarughe ninja che stanno in casa di April O'Neil che in questa storia tra l'altro sembra un'April O'Neil adulta come nel film, come nei cartoni animati dell'87 quando in realtà dovrebbe essere una studentessa universitaria non dovrebbe essere tanto più grande delle tartarughe ninja e le tartarughe si sono rifugiate a casa di April dopo lo scontro davvero grave con il clan del piede di Karai Karai che ha tentato ed è riuscito a riprendersi il clan del piede con il pugno di ferro e ha soppiantato il clan Hamato che è appunto il clan delle tartarughe ninja e ha anche soppiantato l'attuale leader del clan del piede che è il maestro Splinter e lo ha rinchiuso in una cella dove non si sa bene cosa ne sarà di lui non lo vuole uccidere ma sicuramente lo vuole rinchiudere senza dargli da mangiare fondamentalmente facendolo morire di fame e questa è una cosa molto preoccupante non so come andrà a finire ma non credo andrà a finire bene nel frattempo così come l'odio verso i mutanti da parte di Han continua continua anche l'odio da parte di Vecchio Diavolo verso gli esseri umani che sente come appunto i principali responsabili di tutte le vessazioni verso il popolo mutante e in questo numero porterà a termine un suo piano molto molto malvagio che getterà le basi per quella che sarà la nuova realtà della storia delle tartarughe ninja dell'ADW finalmente Jennika si ritrova con le altre quattro tartarughe e si ritrova con tanto di bandana gialla che abbiamo visto gli è stata data nel numero scorso da Alopex una cosa che io ho apprezzato ma avrei apprezzato di più se la bandana gliel'avessero data le tartarughe ninja stesse perché l'avrebbero accolta nel clan amato invece qua sembra che siccome è una tartaruga deve avere una bandana non è una cosa scontata si presenta alle tartarughe con già la bandana addosso non è una cosa che ho gradito l'avrei gradita in un altro modo ma non è questo l'importante ci mancherebbe si sancisce la differenza tra Jennika che viene da un essere umano e le tartarughe ninja che invece sono dei mutanti che vengono da una forma animale dal fatto che Jennika come gli altri mutanti che vengono dalla forma umana di Bob e Rocksteady indossa i vestiti però esteticamente non si capisce assolutamente che è una donna a differenza appunto della tanto odiata Venus che aveva il seno che piegava diciamo il carapace anteriore c'è l'ennesimo scontro tra Leonardo e Raffaello lo sappiamo che Raffaello ha già avuto un'operazione con Vecchio Diavolo e anche adesso se ne va sbattendo la porta se ne va dalla famiglia per andare ad aiutare appunto in un'altra missione Vecchio Diavolo che è appunto questo piano davvero orribile niente poco di meno che alla come si dice all'annunciazione non so come il termine tecnico di Baxter Stockman come nuovo sindaco di New York perché Baxter Stockman ha ufficialmente vinto le elezioni e sarà il nuovo sindaco di New York e quindi in questa diciamo in questo comizio elettorale di vittoria si introduce Vecchio Diavolo e fa un atto compie un atto terroristico che pensavo temevo fosse appunto una strage con il mitragliatore invece lancia una sorta di bomba mutagena che trasforma gran parte della popolazione che era lì ad assistere appunto al comizio elettorale di Baxter Stockman generando quella che poi sarà una sorta di ghetto mutante all'interno di New York il finale si conclude col maestro Splinter che inizia a avere delle allucinazioni crede di vedere sua moglie Tangshen e invece è il re dei topi che si sta appropriando della sua mente la seconda storia parla ancora del maestro Shredder di Oroku Saki che sta cercando di separarsi dal suo vecchio antenato di cui è la rincarnazione e sta cercando di separarsi dallo spirito del dragone che è una delle tante è uno dei tanti pantheon scusate è uno dei tanti spiriti che occupano il pantheon di queste divinità insieme appunto al re dei topi alla strega Kitsune e agli altri che abbiamo visto nei numeri scorsi delle tartarughe ninja lui vuole separarsi da tutto ciò e vuole diventare se stesso e scopriamo che tutta questa sua battaglia in vita è dovuto anche in un certo senso all'amore che lui stesso provava per la strega Kitsune parlo poco di questa storia perché inizio a trovarla un po' ridondante quello che ho letto in questo numero fondamentalmente si porta a un finale ma io mi ero già stufato di leggere questa parte due numeri fa mentre appunto nell'ultima storia ci mostrano come Raffaello viene in un certo senso cioè in un certo senso viene rapito sempre dalla forza di protezione terrestre e fondamentalmente volevano sezionarlo non so se volevano estrarre il mutageno o clonarlo come poi hanno clonato appunto Slash però appunto volevano sperimentare su di lui volevano anche gli occhi rossi lo simboleggiano volevano tentare di comandarlo a distanza come avevano fatto con Slash che come sappiamo si è sacrificato qualche numero addietro per evitare che una bomba nucleare esplodesse su Barno Island salvando di fatto la razza degli Ultron e la razza dei Triceratron che altrimenti si sarebbero estinti con quell'esplosione in questo numero vediamo fondamentalmente tre cose la forza fisica superiore di Raffaello anche le altre tartarughe ninja la rabbia di Raffaello che lo porta a scappare ad evadere dalla sua prigione e la sua furia distruttiva verso la forza di protezione terrestre e in ultimo la sua amicizia con Casey Jones e con Alopex che lo salvano da se stesso lo salvano anche dalla sua rabbia indomabile e di come l'amicizia con Casey e anche con Alopex speriamo dovrebbe essere appunto un punto cardine del suo carattere della sua esistenza fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero se vi è piaciuto se non vi è piaciuto se l'avete già letto se non l'avete ancora letto se invece preferite tartarughe ninja e power ranger queste storie storie di questo tipo se preferite la serie regolare scrivetelo qua sotto nei commenti e come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci alla prossima e vi ringrazio e vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio